Allora, adesso cominciamo a usare un po' queste operazioni primitive per fare qualche piccolo algoritmo che sfrutti le liste. Volevo solo farvi presente che nel foglio riassuntivo delle funzioni, qui trovate il link sul sito e anche sul canale Telegram, man mano stiamo andando avanti stiamo conoscendo nuove funzioni e quindi le varie funzioni sulle liste sono tutte elencate qua, no non tutte, quelle più importanti in questa zona qua di colore tra lilla e rosa in certo senso e sono riassunte la funzione dei vari metodi in cui dobbiamo, fate bene attenzione alle parole se vi dice che un metodo restituisce qualcosa oppure no, ad esempio index restituisce la posizione, appende e invece dice non restituisce nulla, aggiunge e poi a volte si capisce se modifica la lista stessa, quindi rimuove l'elemento, aggiunge un elemento, estende dove era qua sotto, aggiunge elementi alla lista stessa rispetto invece a quando si dice restituisce una nuova lista, quindi abbiamo cercato di condensare il più possibile le spiegazioni però mantenendo gli elementi caratterizzanti e poi abbiamo provato anche per facilità diciamo così di conoscenza delle varie funzioni a fare questo schemino riassuntivo di cui per ora possiamo leggere le prime due colonne, cioè cosa succede con le stringhe e cosa succede con le liste, qua ho provato a elencare le varie macro funzionalità di cui possiamo avere bisogno, cioè accede a un singolo elemento, modifica un singolo elemento, allora modifica un singolo elemento significa se ho l'indice lista di uguale il valore dell'elemento, sulla stringa questo non l'ho messo perché chiaramente non si può, è un'operazione che sulle stringhe non si può fare perché sono immutabili, aggiungi un elemento anche qua, sulle stringhe non si possono fare e però ad esempio sulle operazioni di modifica che sono aggiunta unione e cancellazione che sono qua e poi anche ordinamento ma ordinamento non ce ne occupiamo ancora oggi, di ciascuna di queste operazioni ho messo le due variabili, le due varianti, aggiungi un elemento modificando il valore o aggiungi un elemento restituendo un nuovo valore, quindi una nuova lista, quindi ad esempio per aggiungere un elemento posso usare append e modifica la lista e quindi tutti i dialies che quella lista in quel momento ha, se invece voglio restituire un nuovo valore allora posso usare la concatenazione di una lista esistente più una listarella di un elemento che mi costruisco sul momento, oppure aggiungo, unisco due contenitori, quindi faccio l'extend e estensione, modificando, extend modifica il valore della lista, l, mentre invece se voglio creare una nuova lista, un nuovo valore mi suggerisce di usare la concatenazione e così via a cancellare un elemento, il concetto stesso di cancellazione significa che devo modificare la lista stessa, quindi non c'è discorso di cancellare creando una nuova, ma si potrebbe anche aggiungere, magari lo aggiungo, cancellare un elemento creando una nuova lista significa crearne una nuova senza quell'elemento lì, però abbiamo visto che c'è una funzione pop, tra l'altro questo specchietto di assuntivo ci ricorda, ci informa che esiste anche un'altra funzione, un altro metodo per cancellare un valore della lista che si chiama remove e che differenza c'è tra pop e remove? La differenza è sostanziale perché pop cancella un elemento nella posizione i, quindi devo conoscere l'indice, remove invece cancella un elemento il cui valore è x, cioè cancella, se c'è la stringa ciao cancella, quindi remove è come se facesse prima uno index per cercare l'elemento e poi il pop dell'elemento in quella posizione lì, poi qui c'è solo il nome della funzione e per capire cosa fa questa funzione conviene andare o nella documentazione ufficiale oppure nella parte, quindi rimuove l'elemento il cui valore è x, quindi se lo va a cercare nella lista e sposta tutti gli elementi, ovviamente l'elemento deve esistere, altrimenti l'index che ha dentro fallirebbe, quindi abbiamo cercato appunto di condensare in poche pagine, diciamo così, tutte queste funzioni che poi possiamo usare anche perché a prima vista hanno dei nomi anche un po' strampalati, anche un po' difficili da distinguere, quindi potete, questo ve l'ho già detto, questo foglio qua ce l'avete all'esame, quindi lo potete portare o consultare online oppure stampato all'esame con queste funzioni, quindi, e dovrebbe esserci quasi tutto ciò che ci serve, se trovate dei metodi, delle funzioni che mancano qua, ve lo dite e io lo aggiungo. Ok, torniamo a noi, altre cose che posso fare sulle liste, vabbè una quasi inutile, cioè la moltiplicazione di una lista per un numero, che crea una replicazione della lista, come dire, la concateno con se stessa più volte, l'abbiamo usato sulle stringhe per fare le righe di asterischi, eccetera, ma sulle liste serve un po' meno, se non magari inizializzare una lista di questo genere, no? Una lista con 12 zeri, anziché si dire 0, 0, 0, 0, posso dire, ok, crea una lista di un elemento che è uno 0 e la replico 12 volte. Ho i confronti di uguaglianza e differenza tra liste, beh, uguaglianza e differenza sono abbastanza semplici come algoritmo, due liste sono uguali, se hanno la stessa lunghezza, hanno gli stessi elementi, o meglio, hanno elementi uguali nelle stesse posizioni. Ok? Quindi, se due liste hanno lunghezza diversa, di sicuro sono diverse, se hanno lunghezza uguale, vado a vedere gli elementi, il primo elemento della prima lista è uguale al primo elemento della seconda lista? Se no, non sono diverse, sono diverse, altrimenti vado a vedere i secondi elementi, il secondo elemento della prima lista è uguale al secondo elemento della seconda lista? E così via. Se tutti questi confronti hanno esito positivo, allora dico che l'operatore di uguale dice che le due liste sono identiche, altrimenti non sono identiche. Quindi ad esempio questa qua di sotto, che contiene gli stessi elementi in un ordine diverso, non è considerato uguale. Ok? L'uguaglianza è tutti gli elementi nelle stesse posizioni sono tra di loro uguali. Poi ci sono alcune funzioni di comodo sulle liste, massimo, minimo e somma. Frequentissimo fare la somma di una serie di elementi, oppure trovare il più grande o il più piccolo. Allora, mentre tutte le funzioni che abbiamo visto finora funzionano su qualunque lista, perché lavorano sulla struttura della lista, sulle freccioline, queste funzioni qua invece lavorano sui valori, faccio la somma dei valori, il massimo dei valori e quindi sono un pochino più pignole sul tipo di elementi che ci mettono nella lista. La funzione somma funziona solo se la lista è una lista di numeri, reali o interi, perché deve fare una somma, se ci sono le stringhe non funziona la somma. Quindi la funzione sum funziona su una lista purché tutti gli elementi della lista siano numeri. Se no, si arrabbia e ce lo dice. Se io ho la lista A uguale 7, 4, 2, 9 e faccio la somma di A, fa 22, tranquillo. Quindi non devo neanche fare un ciclo per andare a sommare gli elementi. Se voglio fare la media farò la somma diviso la lunghezza e mi do la media. quindi le operazioni principali ci possiamo aspettare di trovarle nella libreria standard. Se però questa, se aggiungiamo qualcosa che non c'entra, appendo un asterisco, che ne so, una stringhetta e provo a fare la somma, mi dice che l'operazione di più, che io non ho scritto nessun più, ma ovviamente dentro la funzione sum userà il più, non può funzionare combinando un'intera stringa. Cioè, è un modo, di nuovo, indiretto di dirmi, non mi dovevi mettere una stringa lì dentro. Ok? Poi ci sono, quindi, la funzione max funziona solamente su liste di numeri, poi le funzioni, scusami, sum, invece le funzioni massimo e minimo possono funzionare sia su liste di numeri, sia su liste di stringhe, ma non misti. Cioè, ho una lista che contiene solo numeri, allora il massimo e il minimo viene inteso in senso aritmetico, ho una stringa che contiene solo stringhe e allora il massimo e minimo vengono inteso in senso alfabetico barra lessicografico, argomento, ma se fossero misti non sa più cosa fare e quindi dà errore, dà errore sull'operatore di confronto. Quindi se io, ad esempio, facessi il massimo dell'A, che era quella prima, con l'asterisco dentro, mi dice di nuovo che non si lamenta sul più, ma si lamenta sul maggiore, quando devo fare i confronti all'interno, trovo all'interno una stringa e non riesci a metterli d'accordo. Quindi se io cancello, invece, l'ultimo elemento, quindi come fare a cancellare l'ultimo elemento? Faccio il pop dell'elemento il cui indice è l'ultimo indice. A.pop rendi A-1 e lui mi ha poppato l'asterisco, in italiano suona male, scusate, e allora potrò fare il massimo di A o il minimo di A. Ok? Quindi finché sono le funzioni che lavorano sulla struttura della lista, se ne fregano dei valori. Quando invece devo lavorare sui valori, devo andare a vedere quali vincoli aggiuntivi ci sono sul tipo di valori che possono elaborare. Un altro metodo molto utile, che per fortuna Python ha e fornisce in modo accessibile, mentre per altri linguaggi è più complicato, richiede di andare un pochino più avanti per poterlo usare, è il metodo sort, che data una lista di numeri o una lista di stringhe, di nuovo lo stesso discorso, non mista e non di altre cose, ordina quella lista da più piccola a più grande. Se sono numeri in senso rimetrico, se sono stringhe in senso psicografico. Quindi la mia A, che era 7,429, posso chiamare il metodo sort, è un metodo che modifica la lista attuale. Infatti la stessa A adesso ha gli stessi valori in ordine. Se la lista inizialmente avesse contenuto dei duplicati magari messi in posizioni diverse, nell'ordinamento questi duplicati compaiono più volte ma uno vicino all'altro. Quindi l'esito di un'operazione di sorting, di ordinamento, mantiene sempre uguale la lunghezza della lista, semplicemente esporta gli elementi e modifica la lista stessa, non un'altra. Se io invece voglio fare una copia ordinata della lista ho un'altra funzione che invece si chiama sorted. Nel primo caso è un metodo della lista, è quasi sempre vero che i metodi vanno a modificare la lista e le funzioni creano qualcosa di nuovo, ma non prendetela come regola generale perché ci sono eccezioni. Sorted invece cosa fa? Prende una lista, ne fa una copia, ordina la copia e mi restituisce il valore della copia. E quindi ciò che ottengo è una copia ordinata della lista di partenza, ma la lista di partenza non l'ho toccata, non l'ho modificata. A volte può servire. Quindi sort è un metodo, non restituisce nulla ma modifica la lista stessa. Sorted è una funzione, restituisce una lista nuova ordinata e non modifica la lista di partenza. Fanno la stessa operazione in due modi diversi. Funzionano solo su liste, come abbiamo detto, di soli numeri o di sole stringhe. A volte l'ordinamento mi serve o inverso, quindi non dal più piccolo al più grande, ma dal più grande al più piccolo, lo posso fare aggiungendo un parametro aggiuntivo diverso uguale true, che cambia l'ordinamento finale dei valori. Quindi di fatto me lo scrivo al contrario rispetto al sort normale. Quindi se deve fare una classifica da chi ha preso più punti a chi ha preso meno punti, lo ordini per valori decrescenti, quindi in reverse, la lista di partenza. L'altra operazione che possiamo fare sulle liste, beh, sono tutte le operazioni di slicing. Quindi posso estrarre, queste già le conoscevamo tutte sulle stringhe, quindi crea una fetta che va a una lista di numeri, da 6 a 9 vuol dire che conterrà i 3 elementi che sono quello di indice 6, 7, 8, quindi creerà una lista nuova di lunghezza 3. Qui valgono sempre tutte le stosse regole, le scorciatoie, con in più una interessante che è questa di mezzo. Una slice crea sempre una lista nuova della propria lista madre. Se io non indico il valore minimo e il valore massimo degli indici della slice, mi dà una lista nuova che contiene tutti gli elementi di partenza, perché il default dell'indice minimo è 0 e il default dell'indice massimo è l'ultimo. Quindi questo è un altro modo per fare una coppia di una lista. Proviamo a vederlo. Dov'era il mio Python tutor? L'ho perso? No, qua. Allora, prendiamo la nostra listarella, facciamo un pochino più lunga, mettiamo un altro 3, mettiamo anche dei duplicati, dai che male non fanno, uno 0 e un 11, ok? Quindi io posso da B estrarre una fetta di A, quindi A, che ne so, 2, 5. Quindi posso, dato una lista che in questo caso è un po' lunga, vedete che tra l'altro c'è il 3 ripetuto e quindi lui se ne accorge e fa, visto che il 3 è uno solo nell'universo, viene condiviso, ma questo è un dettaglio che non ci interessa. B uguale A di 2, 5. Cosa vuol dire? Vuol dire che sto creando, sto estraendo una porzione, una slice di A con gli indici 2, 3, 4. Quindi se vado a creare B, B crea una nuova lista che contiene questi tre indici, questi tre valori. Nella posizione 0, 1, 2 chiaramente i valori, adesso qua è difficile da vedere, che il valore 2 che puntava all'8, anche questo punta allo stesso 8. Ciò che puntava prima al 3, l'indice 3 che puntava al valore 3, adesso l'indice 1 della nuova lista punta allo stesso indice 3. Se io facessi una porzione completa, così, sto facendo la stessa operazione, creo una nuova lista, che si fa riferimento ai stessi elementi di prima, ma la lista è nuova, dal primo elemento fino all'ultimo. Quindi un altro modo, vabbè, qui le frecce, abdichiamo alla speranza di capire dove vanno le frecce, però vediamo che la nuova lista C è uguale alla lista A, se io stampassi A e stampassi C vedrei gli stessi valori, ma sono due copie indipendenti. Quindi quest'altro sintassi è un terzo modo che abbiamo visto per poter creare una copia di una lista. Tre parentesi quadre parlano forte, dicono questa è una lista nuova, sto creando una lista, a differenza di un alias. Ecco, la novità invece, oltre al fatto che possiamo usare una slicing per fare una copia, che con le stringhe non serviva perché erano immutabili e quindi la distinzione tra copia e alias non ci serviva, qui la novità è che le porzioni sono modificabili. Quindi, mentre io posso modificare un singolo elemento ad 1 uguale 10, va bene, posso anche modificare il contenuto di una porzione consecutiva di elementi, rimpiazzandolo con un'altra lista, con gli elementi di un'altra lista. Ok? Quindi, se io volessi, prendiamo questa lista qua di partenza, e prendiamo la lista B che contiene due valori, facciamo 99 e 98, così si riconoscono facilmente, ok? E vogliamo dire, guarda, io voglio modificare A in modo che al posto di questi due elementi, perché mi stanno antipatici, ci vadano questi due valori. Allora, io posso riassegnare, potrei fare, allora, nessuno mi vieterebbe di fare, 0, 1, 2, 3, A di 3 uguale B di 0 e A di 4 uguale B di 1, liscio come l'olio. Ho detto, al posto di questi due voglio questi due, allora al posto del 3 metterò il 99, al posto del 2 metterò il 98. No? Quindi, creo A, creo B e poi sostituisco A di 3 facendolo puntare a 99 e sostituisco A di 4 facendolo puntare a 98. Ecco, se voglio questa operazione la posso semplificare andando a sostituire direttamente una porzione. Quindi, se io commento questo codice, posso scrivere direttamente A di 3, 4 uguale B di 0, 1. In realtà no, attenzione, 3 e 4 sono gli indici compresi, se faccio una porzione devo sempre indicare l'indice escluso, quindi devo scrivere 3, 5 e 0, 2. Facciamo attenzione sempre, no? Dopodiché B di 0, 2, altro non è che B stesso, quindi, perché è tutta B. Allora sto dicendo, al posto di una porzione di due elementi, da 3 a 5, quindi 3 e 4, della stringa A, mettici valori della lista B. E questo, vabbè, può essere comodo valori, creo A, creo B e in un'unica istruzione, che è questa qua, la riga 7, cambio contemporaneamente questi due valori. Ma la cosa carina è che questa operazione funziona anche se la lunghezza della porzione non è la stessa della lunghezza della lista che ci metto dentro. Quindi io posso mettere dentro a questa lista, a questa porzione di due elementi, una lista più lunga. e funziona nello stesso modo con la differenza che sto assegnando dentro a, quindi a parentesi uguale. Non sto creando una nuova lista al posto di a, ma sto modificando a stessa. Sto modificando una porzione di due elementi all'interno di a e la sto rimpiazzando con una lista che è lunga 5. Allora, al posto di due elementi ne sto mettendo 5. E allora cosa deve fare lui? Gli fa spazio. E quindi vedremo che A cresce in lunghezza, adesso avrà 10 elementi e quelli dalla posizione 3 in avanti sono presi dalla lista B e poi rimangono gli elementi che prima c'erano. se non viene perso nulla, vengono solo persi i due elementi che ho sostituito, ma quelli successivi li trovo e li trovo un pochino più avanti. E idem se io invece facessi al contrario una stringa più corta al posto di quella di prima, di un solo elemento. E allora in questo caso, vabbè, del tutto in modo analogo, complementare, la lista A verrebbe a accorciarsi di un elemento. Quindi al posto di due elementi ci metto gli elementi di una lista che è lunga solo uno. Vabbè, allora quei due li tolgo e ci metto l'altra dentro. Questo porta a una serie di scorciatoie, ad esempio cancellare una serie di elementi. se voglio cancellare un elemento, posso usare una serie di pop per togliere l'uno dopo l'altro, oppure posso rimpiazzare un'intera porzione con una lista vuota, togli gli elementi e non ci giunge nulla. Oppure c'è questo idioma un po' strano che dice al posto di tutti gli elementi di una lista mettici niente. Quindi è un modo per buttar via tutto. Cancellare tutti gli elementi della lista senza cambiare la lista stessa. Ecco, la potenza della selezione a porzioni è che la lista non viene cambiata. Quindi se avesse degli ali a suo altro, vengono mantenuti. Non è l'ultima, fa sì che la lista temperature diventi una lista vuota. Ma non è la stessa cosa che scrivere temperature uguale a lista vuota. Perché nel secondo caso starei modificando la variabile facendo appuntare a una nuova lista vuota. In questo caso invece sto svuotando la lista esistente senza modificare il riferimento. C'è di nuovo sempre questa dualità tra creo una cosa nuova che contiene il valore che mi piacciono oppure modifico la struttura della lista esistente senza però modificare il riferimento alla lista stessa e quindi l'eventuale persistenza di alias. Ok, qui sono ripetute un po' di volte perché l'ho preso da libri diversi, da siti diversi, l'elenco delle operazioni sono sempre le stesse che sono quelle che abbiamo anche sul nostro foglio. Allora, partiamo da, facciamo qualche ricizietto così di ginnastica sulle cose che abbiamo appena imparato. Allora la prima cosa potrebbe essere stampiamo una stringa, dai dai, stampiamo una lista, una lista di nomi. Qui noi avevamo il nostro programmino, che c'abbiamo ancora se non sbaglio, che ha un nome stupido perché l'ho chiamato Leggi Numeri ma in realtà legge dei nomi, quindi magari lo cambiamo. Vabbè, lo rinominiamo dopo, dai, la lezione è finita. in cui leggevo una serie di cinque nomi e poi li stampava, lasciamo perdere questa parte di ricerca, ok? Li stampava con una print, funzionava questo, no? Avevamo scritto un, due, tre, quattro, cinque, Adesso fatemi forcivere io, abcd. E mi stampava però in questo formato qua. In questo caso inseriva all'inizio, quindi aggirava al contrario, pazienza. Che è un formato un po' brutto da vedere, cioè va bene per noi mentre stiamo programmando perché ci fa vedere come è fatta quella lista. ma per l'utente io vorrei scrivere i nomi che ho inserito sono due punti, un nome, virgola l'altro, virgola l'altro, virgola l'altro. E quindi non posso usare direttamente la print della lista. La print della lista stampa in questo formato. Se voglio stampare in un formato diverso, me lo devo fare un elemento per volta. Ok, allora non faccio questa print, non mi piace, ma voglio stampare l'elenco dei nomi separandoli con una virgola senza apici né parte di quadri. Quindi voglio che mi stampi, ad esempio, 1,2,3 e non aperta quadra virgolette 1 virgola spazio virgolette 2 eccetera. Allora questa seconda parte che non voglio mi verrebbe gratis, ma se non la voglio me ne devo fare una che piace a me. Allora come posso fare? Vabbè, vorrei dire che devo stampare una dopo l'altra le varie elementi della lista. Quindi avrò un ciclo che va a iterare sugli elementi della lista, ciascuno di quali lo stampo e poi uso la land che già conosco per non andare a capo, eccetera, eccetera. Allora facciamolo incrementalmente. quindi farò un ciclo range length di nomi no scusate, più comodo iterare sugli elementi for nome in nomi. Nomi è la lista, nome è il singolo elemento della lista. Poi qui ho chiamato nome questa variabile, l'avevo già chiamato una variabile di nome alla riga 8. Sto riusando il nome di una variabile, ma questa variabile qua mi serviva solamente dentro il ciclo for. Però facciamo attenzione quando il programma diventa un pochino più lungo, quando diamo il nome a una variabile che magari è un nome comodo, for nome in nomi fila bene, no? Come scrittura, come scelta di nomi delle variabili, però magari quella variabile di nome già la usavo per qualcos'altro. In questo caso no, l'ho usata e poi non mi serviva più. Per questo sfrutteremo sempre più spesso i programmi in funzioni, perché poi ciascuna funzione c'è i suoi nomi di variabili e non mi devo più preoccupare di andare a vedere se 20 righe sopra avevo usato già la variabile i, la variabile nome, la variabile x. Ok? Adesso siamo concentrati sulle liste. Ok, cosa faccio? Print. Print di nome senza andare a capo. E poi vado a capo una volta sola alla fine, no? Questo l'hanno già fatto per stampare in una tabella di numeri. Non è definitivo ancora ovviamente. Però vediamo come esce fuori. Allora, scusate la mia pigrizia, ma io posso commentare che è stata non inserita tutte le volte 1, 2, 4, 5. Posso inserire a mano visto che poi ci lavoreremo. ok, i dati finti per evitare di inserire con l'input tutte le volte, no? perché se no ci annoiamo visto che vogliamo fare tante prove non vogliamo che ogni prova in ogni prova nella maggior parte del tempo la spendiamo inserire le stesse cose ogni volta, no? Poi ovviamente questo è il ciclo di lettura ma fino a quando sto provando il programma ci metto dentro i dati finti. Quindi questo mi stamperebbe che cosa? Mi stamperebbe questo. e fingendo che io abbia inserito 1, invio 2, invio 3, invio mi stampa questa cosa qua beh, non va bene devo staccarli quindi magari li metto dentro un fstring in cui il nome lo stampo certo ma seguito da uno spazio e quindi li metto già staccati da uno spazio va meglio ma io voglio anche la virgola l'ho scritto qua ormai devo farlo e allora devo mettere una virgola qui che va meglio tranne il fatto che quella virgola come ho fatto io me la stampa anche dopo l'ultimo elemento niente la vita non è mai semplice e allora cosa devo fare? devo riconoscere l'ultimo elemento e quando sono sull'ultimo elemento non lo devo stampare non devo stampare la virgola stampare l'elemento semplice senza la virgola no? quindi se ho 5 elementi fare un po' i primi 4 lui virgola spazio lui virgola spazio lui virgola spazio il quinto lui e basta o addirittura lui a capo così vado a capo dopo l'ultimo quindi dovrò separare come dicevo nei cicli è sempre rognoso il primo e l'ultimo quelli di mezzo vanno facili devo separare l'ultimo elemento dall'iterazione la prima cosa che mi viene in mente che non ho detto che sia la più furba è if è l'ultimo allora se è l'ultimo se stampo semplicemente il nome senza la virgola quindi tolgo questa virgola tolgo questo spazio altrimenti stampo quello che stampavo prima se è l'ultimo non c'è bisogno di una virgola dopo magari ci metto il punto il punto esclamativo ma non la virgola e invece tutti gli altri ce la metto a questo punto mi chiedo ok però come faccio a sapere alla riga 20 se il nome che sto per stampare è l'ultimo o no? almeno sette modi per farlo dimmi allora lui ha detto con index quindi io scriverei if nomi punto index di nome uguale length di nomi meno uno colpa sua che ha detto con index se vuoi usare index devi scrivere una cosa del genere allora cosa ha fatto? nome è il nome che sto per stampare nomi è la lista che li contiene tutti nomi punto index di nome mi dà l'indice della posizione del nome che sto per stampare qui al primo nome che sto per stampare mi darà 0 al secondo nome che sto per stampare mi darà 1 al terzo nome che sto per stampare mi darà 2 all'ultimo nome che sto per stampare mi darà l'indice dell'ultimo nome della lista cioè la lunghezza meno 1 Io qua ci vedo due problemi, uno che non funziona nel caso di nomi duplicati, perché index è quella cosa che se tu hai due volte lo stesso nome ti restituisce l'indice del primo che trova. Quindi proviamolo, non sputiamolo in faccia, è comunque un'idea che funzionicchia, qui funziona benissimo, 1, 2, 3, 4, 5, però se io avessi un utente particolarmente simpatico che mi scrive così, 1, 2, 3, 2, 5, funzionano lo stesso. Ma se invece lui mi scrive 5, 2, allora ci mette, è sottile da vedere, non si nota quasi, ma ci mette una virgola in fondo quando non dovrebbe. Perché cosa succede? Quando l'ultimo elemento a cui non dovrei aggiungere la virgola, già compariva prima, la funzione index trova il primo dei due. Quindi quando nella lista ci sono degli elementi duplicati e uno di questi è proprio l'ultimo, sono duplicati l'ultima posizione con la posizione precedente, l'index fallisce. adesso cerchiamo di risolverlo. Quello che vorrevo suggerirvi è un altro modo di scrivere la stessa cosa partendo da un punto di vista completamente diverso, che ha lo stesso problema di questo, quindi non lo risolve, però vediamo le varie soluzioni perché poi possono tornare utili. L'idea che giustamente avevamo tutti è, vado a vedere se estraggo un'informazione che indica se il nome che sto per stampare è l'ultimo. Ma questo si poteva fare in modo più semplice, semplicemente facendo nome che sto per stampare è uguale a nomi di meno uno. Cioè io sto per stampare un nome e so qual è l'ultimo, è meno uno, me lo trovo lì. Allora se è proprio quello, allora non stampo la virgola. Quindi anziché andare a confrontare gli indici, posso andare a confrontare i valori. Ecco, anche questo non funziona bene perché per lo stesso motivo. In questo caso, guardate qua, due, tre cosa fa? Perché lui trova prima nella lista lo stesso nome che è anche la lista di meno uno, l'ultimo. E allora uno in mezzo, poverino, che non ne poteva niente, non ci stampa la virgola. Ok, erano due buone idee. Entrambi funzionano perfettamente se non ci sono duplicati con l'ultimo elemento. Se ci sono duplicati con l'ultimo elemento, no. Altre idee? Dimmi, ci sono due, uno è qua. Dimmi. Ok, allora tu dici, io faccio un for che però non vada a vedere tutti i nomi ma solo tutti meno uno. E l'ultimo lo gestisco fuori. Ok, tu avevi? Ok, no. Allora, ripeto cosa hai detto tu. Lui dice, è un'idea ma purtroppo non funziona. Dice, visto che la print ha anche un'opzione SEP, lui dice, ma io metto il separatore, uso la print con l'opzione SEP che si sa per il separatore. E giustamente quando io faccio una print e stampo tre valori, lui usa quel separatore e il separatore lo mette tra un valore e l'altro. Ok? Quindi stampo ABC, la print stampa A, il separatore, B, il separatore, C e l'end e il terminatore, non il separatore in fondo. Quindi questa potrebbe essere un'idea, perché l'idea del separatore della print è già qualcosa che viene inframmezzato tra i valori e non aggiunto in fondo. Ecco, peccato che non funziona, rispondo prima a te perché è più breve, perché SEP funziona solamente tra i valori della stessa istruzione print, non tra print diverse. Quindi se io in quella print lì scrivessi print nome di 0, virgola nome di 1, virgola nome di 2, virgola nome di 3, sì funzionerebbe. Però dovrei sapere quanti sono questi nomi tra l'altro che non lo so a priori. Beh, sono 5 in questo caso. Ok? Quindi peccato, no? Funzionerebbe se avessi più nomi nella stessa print, ma invece ne ho uno solo per ogni print, quindi SEP di fatto non interviene qua perché c'è un valore solo che sto stampando. L'altra idea sua invece è diversa, dice anziché fare un ciclo all'interno del quale mi chiedo, ma tu sei l'ultimo o non sei l'ultimo? Io faccio tutto un ciclo con solo i primi n-1 elementi e poi l'ultimo lo faccio a parte. Quindi fatemelo scrivere sotto. Come faccio a fare un ciclo che non itera su tutta la lista, ma su tutta la lista meno un elemento? Beh, posso sempre lavorare con gli indici. Oppure con una porzione. itero sulla porzione di stringa che non contiene l'ultimo elemento. For nome, in nomi, aperta quadra, due punti meno uno. No, mi aperta quadra meno uno, due punti meno uno, mi dà la porzione dal primo elemento fino all'ultimo escluso. Meno uno è l'ultimo, escluso. Allora qui dentro sono sicuro che non ho l'ultimo e quindi stampo tranquillamente con la virgola. Poi fuori dal ciclo, dovrò ancora stampare l'ultimo perché non ho ancora stampato e vabbè lo stamperò. Stamperò nomi di, dopo la parente di graffe, nomi di meno uno senza più nessuna virgola e non metto neanche end uguale perché mi sta bene che vada a capo. Questa è sicuramente una forma più comoda. Fate mettere questo come commento, così non si danno fastidio. Anziché fare un ciclo su tutti e poi incasinarmi a riconoscere il caso particolare, separo il caso particolare fuori dal ciclo. In questo caso è facile da fare perché è l'ultimo un ciclo particolare, non è uno a metà. È quasi non nello stampa giusto. Ok, questo sicuramente fa un passo indietro perché non è una risposta alla domanda come faccio a scoprire se sto per stampare l'ultimo elemento. Ma evita il problema, torna un passo indietro e dice guarda io ti do una soluzione che quel problema non se lo pone neppure. Ok? Va benissimo. Ma se proprio dovessimo risolvere quel problema di trovare l'ultimo? Non in questo esercizio che la soluzione migliore sarebbe questa, ma se in altri casi lo dovessimo trovare? Dobbiamo lavorare con gli indici. Allora, confrontare i valori non va bene perché ci possono essere dei duplicati. Vabbè, però il primo suggerimento era di confrontare gli indici. Sì, ma indici ricavati dai valori. Index ricava un indice dal valore. Se c'è un valore duplicato, index sbarella. Fa qualche affare. Mi dà il primo, ma il secondo no. Allora vuol dire che nella mia iterazione devo non iterare che tanto è comodo sui nomi, ma sull'indice. Oppure sui nomi e indici insieme. Allora a questo punto, fatemi fare un'indice. E quindi if è l'ultimo, banalissimo, if i uguale l'end di nomi meno uno. Perché ho un'informazione certa, l'indice che parte da zero va avanti e da lì non scappa, indipendentemente dai valori. Questo è il primo, quello con l'indice i e l'altro. Se non voglio fare numerate va bene lo stesso, basterà fare un ciclo sui for, lo scrivo qua sopra. itero solo sugli indici, però ovviamente dentro il ciclo mi serve il nome, ma il nome lo vado a recuperare semplicemente. Quindi queste due righe qua sono equivalenti alla riga 24. Nel senso che in entrambi i casi itero su degli indici i e ad ogni iterazione ho anche il nome corrispondente, nome. Qui il nome lo vado a estrarre partendo dall'indice che è un'operazione deterministica dall'indice al nome, al valore. Invece l'index, passando dal valore all'indice, è un'operazione invece che potrebbe trovare il valore sbagliato, non quello che pensavo. E la stessa cosa si condensa alla riga 24 usando il numerate. Sono la stessa cosa. Quindi commentiamo questo solo perché è una riga più breve. Ok, allora siamo riusciti a iterare appunto in modi diversi. Sulla lista abbiamo fatto attenzione a sapere dove siamo all'interno dell'interazione e se ci serve sapere dove siamo ci serve l'indice. Io tutte le volte che vedo un for con un index dentro che va a cercare la posizione della variabile su cui stai iterando, puzza. Anche perché prima vi ho detto che la soluzione di valore sull'indice non andava bene per due motivi, ne ho solo detto uno. Un motivo era che era sbagliato. Ok? Ma l'altro motivo è che è anche poco efficiente. Perché immaginate avere una lista molto lunga. Ad ogni iterazione index, ok, sono alla ottantesima iterazione, allora chiedo a index, senti, trovami questo valore nella lista e lui lo troverà all'ottantesima posizione, se non lo trova prima creandomi dei problemi. E quindi ad ogni iterazione chiedo a index di leggersi l'intera lista per trovare un elemento che so già dov'è. Perché se prima nella settantanovesima iterazione precedente a quella successiva sarà l'indice della posizione. Quindi esplicitiamo il fatto che è un indice e iteriamo su quel diamine di indice. Io insisto su questo perché non sapete quante volte nei compiti vedo costrutti di questo genere. Uno c'è il nome, adesso mi serve la posizione, la posizione te la dà il for, non te la ricostruisci tu dopo. Ok, allora questo è un problema chiaramente ricorrente, stampare una stringa con un certo formato, stampare una lista con un certo formato, talmente ricorrente che c'è già una funzione di libreria che lo fa, che si chiama, bla bla bla, join. Il metodo join è un metodo dell'oggetto stringa, si scrive un po' strano, però noi abbiamo una stringa, punto join, tra parentesi una lista, una lista che deve essere una lista di stringhe, necessariamente di stringhe. Allora cosa fa? Essendo un metodo di stringa crea una stringa in cui unisce i nomi, cioè le stringhe, gli elementi della lista che sono, che devono essere stringhe, li unisce tra di loro, separandoli dalla sottostringa separatrice che decido io, che è la stringa sulla quale chiamo il metodo. Quindi io sto chiamando il metodo non su una variabile, ma su una stringa costante, ma uguale, sempre una stringa, l'importante è il valore, se si chiama in un modo o in un altro. quindi in questo caso tutto questo esercizio me la cavavo stampando semplicemente il mio separatore, che doveva essere virgola spazio, punto join, della mia lista di nomi. questa roba qua non funziona solo con la print, questa cosa qua la posso prendere e salvare in una variabile e poi farci quello che voglio, restituisce una stringa. Quindi se io stampo questo, ovviamente è identico. Quindi ho una lista di stringhe e voglio passare una stringa unica che le incolli, join. Come le incollo? Qual è il separatore per incollarle? È la stringa su cui chiamo join. Poi ci sono delle cose carine, nel senso che se tu qua ci metti la stringa vuota, join le incolla senza metterle su un separatore, quindi può tornare utile. A volte, no? Se ci metti uno a capo, vabbè, lui le sapara andando a capo dopo ciascuna. Dov'è? Qui lo scrolling è sempre, ecco qua, li mette uno sotto l'altro. Quindi basta che se creativi un pochino con questa funzione si riescono ad ottenere qualche cose che costano meno fatica che non impostarlo con un ciclo. Troverete che in Python ci sono molti metodi le funzioni che sono proprio pensate per aiutarci a pensare sull'operazione a livello più alto che vogliamo fare, più astratta, e non andare a prendere il singolo elemento e maneggiarlo, no? Rispetto ad altri linguaggi. È più frequente non aver bisogno di fare un for sugli elementi perché magari c'è già la funzione di libreria o qualche costrutto del linguaggio che ci permette di evitarlo. Chiaro che lo dobbiamo saper fare perché a volte bisogna farlo, ma nei casi più frequenti dell'operazione più frequenti qualcuno ci ha già pensato e c'è qualcosa in libreria che fa al caso nostro. Ecco, sempre parlando di join, c'è la sua sorella che è split, che fa l'operazione inversa. Data una stringa, analizza questa stringa, la rompe a pezzettini e mi dà una lista di stringhe che corrispondono ai vari pezzettini. Quindi a volte se io voglio leggere, dammi cinque nomi, tutto sulla stessa riga, anziché fare uno, invio l'altro, invio l'altro, eccetera, lo posso fare, no? Io posso avere magari una, vediamo in interattivo, posso avere i nomi sotto forma di stringa, unica, uguale tizio, caio, sempronio, per usare dei nomi noti, questi nomi stringa li posso dividere e mi dà una lista, no, il metodo split si applica, è un metodo della stringa, quindi si applica la stringa, restituisce una lista di stringhe, ciascuna delle quali è una porzione della stringa di partenza separandole dove c'erano gli spazi. Ok? Quindi se i nomi sono separati da spazi, come in questo caso, split mi restituisce, e tra l'altro è anche abbastanza furba, nel senso che se ci fossero più spazi in mezzo, se ricordo bene, li ignora, cosa che se dovessimo fare a mano, ricordate la fatica che avevamo fatto per le parole, maiuscole, minuscole, dove comincia e dove finisce, ecco, una parte di questa fatica qua ce l'avrebbe potuta portare via. Poi la funzione split può anche avere un argomento che è il carattere separatore da usare. Ritorna, leggiamo la definizione, restituisce una lista delle parole nella stringa delimitatrice, usando sepp come stringa delimitatrice. Poi c'è un parametro MaxSplit che ti dice non lavano i più di tanti ma non ci interessa. Se viene fornito il separatore, sepp is given, allora non vengono aggruppati insieme i delimitatori, altrimenti se l'argomento separatore può consistere di caratteri multipli e devono corrispondere correttamente. Ad esempio, se io avessi questi nomi stringa separati da un asterisco e facessi lo split, beh, mi dà una stringa unica perché non ho spazi, lo split normalmente lavora sugli spazi. Allora in quel caso gli devo dare come separatore l'asterisco e allora mi darà i nomi separati. noi non avevamo l'asterisco, avevamo la virgola, quindi in realtà posso mettere i nomi con la virgola e fare lo split sulla virgola che mi dà gli stessi nomi. Però normalmente dopo la virgola si mette uno spazio. Allora attenzione che se io faccio, ho questa stringa qua, nome, virgola, spazio, nome, virgola, spazio, nome, e facessi uno split sulla virgola, me mi divide, ma attenzione che poi qua gli spazi rimangono. Cioè lui divide sulla virgola, quindi dice, ok, dall'inizio fino alla prima virgola, fino al primo separatore, che è una virgola. Poi c'è il separatore, ok, poi quello che segue il separatore fino al prossimo separatore, che è una stringa che però contiene degli spazi al suo interno, può contenere degli spazi al suo interno. E come faccio a evitarlo? Beh, potrei mettere come separatore e virgola spazio. E allora funziona bene. Virgola spazio funziona bene fino a quando uno non si dimentica lo spazio. Se mi sono dimenticato lo spazio, lo split su virgola spazio non funziona, perché lui non trova la sequenza virgola spazio, trova la sequenza virgola s che non è un separatore. Quindi è comodo lo split, ma non è che sia furbo, ecco, particolarmente furbo. Lui va a trovare esattamente, allora ecco, funziona bene se separiamo su un singolo carattere. Già su una sequenza di caratteri, se poi non c'è, se c'è uno spazio in più, uno spazio in meno, non me lo trova. Tra l'altro questa cosa qua del mettere virgola spazio non funziona se non ho messo lo spazio, ma non funziona neanche se metto due spazi. Perché il primo spazio viene considerato come parte del separatore, il secondo come parte del nome. Ok? Quindi, se dovessi davvero farlo come farei? Allora, uno, se posso scegliere, mi uso lo spazio come separatore e mi tolgo i problemi, perché lo split senza argomenti lavora sugli spazi e da solo gestisce la molteplicità degli spazi. Se ci sono troppi li ignora. Ok, la più facile. Se non posso usare lo spazio, devo usare magari la virgola, allora ho un altro separatore, cerco se è possibile di splittare su un carattere unico e se ho degli spazi di troppo li butto via, dopo. Esempio. Qua, a posto di questi dati fake, chiediamo all'utente di inserire i nomi separati da virgole. Allora, i nomi stringa sono input i nomi, i nomi stringa sono input i nomi, faccio una semplice input e poi li divido. Quindi io posso ottenermi la mia lista di nomi come nomi stringa punto split sulla virgola, che è quello che abbiamo appena fatto, no? In modo interattivo, non virgola spazio, ma virgola semplice. questo funziona, ma mi lascio gli spazi dentro i nomi, ok? Per togliere gli spazi dei nomi, quello che posso usare, ad esempio la funzione, forse l'avevamo, forse non l'avevamo vista o non l'avevamo o i caratteri specificati, ma la versione senza argomenti limita gli spazi iniziali o finali da una stringa. quindi, o dico, la mia funzione split divide una stringa unica in tante sottostringhe, che possono contenere degli spazi in eccesso. E questi spazi in eccesso li posso poi andare a sistemare dopo col metodo strip. questo qua. I caratteri spazio vengono eliminati tanto all'inizio quanto alla fine. Quindi posso, dopo che ho la stringa dei nomi, andare per ciascun elemento di questa stringa a sostituirlo con la sua versione strippata. for, i, in, len, nomi, nomi, nomi di i, uguale, nomi di i, punto strip. Vado a prendere uno per uno gli elementi del strip, funziona sulle stringhe, non sulle liste. Quindi non posso fare la lista nomi, punto strip, mi dice che non c'è. Vado a prendere una per una le stringhe, tolgo gli spazi in eccesso e, visto che sono stringhe, sono immutabili, l'unica soluzione che ho è di rimpiazzare la stringa che poteva contenere degli spazi con la nuova stringa che non li contiene più. Con l'uguale. E così funziona, non c'è modo di farlo in un'operazione sola. Devo prendere l'elemento per volta. Ecco, l'ultimo quiz che vi pongo è, se io scrivessi questo, ho fatto un ciclo che itera sulle posizioni, for i, l'end i nomi. Adesso provo a riscriverlo, la stessa cosa iterando sui valori. for nome in nomi, nome uguale nome punto strip. Quindi in teoria queste due cose fanno la stessa cosa. So che la prima itera sugli indici e poi ogni volta per prendere il singolo nome lo chiamo nome di i, nome di i, la seconda itera direttamente sul valore. Quindi il nome punto strip è il nome senza più spazio. Allora, vediamo cosa fanno queste due. Mettiamo un print di nomi qua sopra, mettiamo un print di nomi qua sotto e per ora commentiamo la seconda. quindi facciamo lo split, vediamo cosa esce dallo split e vediamo cosa esce da queste due righe. cinque nomi separati da virgole a virgola b c d e ho messo degli spazi un po' a cadaccio. Sì, allora, mi ha dato un errore alla riga 23 dicendo che un oggetto int non è iterabile. Andiamo a vedere la riga 23, ho dimenticato range. devo sempre costruire un oggetto range se voglio iterare su un insieme di numeri. Invece ho messo solamente for int in 10, 10 non è un iterabile, non è un contenitore. Dimenticanza stupida. A, B, C, D, E. Allora, la prima print è di ciò che ho appena ottenuto dalla split, che va bene perché ha diviso le parole ma ci sono dentro gli spazi di troppo. la seconda print è quella che ho ottenuto dopo avere uno per uno strippato i vari nomi. Ok? Funziona. Sembra giusta. Ok? Allora, facciamo la controprova di commentare questo e scommentare quest'altro e vedere cosa esce. per essere sicuro mi faccio copia e incolla di questo così sono sicuro che faccio esattamente la stessa cosa. Ecco, questo secondo caso, pur essendo identico a quello di prima, perché prima ho iterato sull'indice e poi ho iterato sul valore, ma nella stessa iterazione, con la stessa operazione dentro, non ha funzionato. E il motivo per cui non ha funzionato è il tema di oggi. Ho rotto un alias. Questo nome uguale nome punto strip non va a modificare l'elemento della lista, ma va a spostare la variabile nome su un nuovo valore. Vediamolo subito sul tutor. Solamente queste due righe qua. per capire cosa succede, e poi vi lo lascio dove sei, dove sei, qua. io posso avere la mia stringa che si chiamava nome stringa, era a a spazio b b c c d d e e, nomi uguale, nomi uguale, nomi stringa punto split, della virgola, e vediamo cosa succede dopo. Ok, questo lo sappiamo, ha fatto lo split dove ci sono gli spazi non dovuti. facciamo attenzione cosa succede qua. Nome è una nuova variabile che punta a un alias del primo elemento. Il problema è quando faccio un nome uguale qua sotto, nome punto strip, perché sta calcolando giustamente il nome punto strip, e quindi mi darà questa stessa stringa senza spazi, ma anziché assegnarla alla lista di zero, la segna ridefinisce questa variabile nome. Questa variabile nome viene ridefinita e poi viene subito dimenticata perché col ciclo for la sposta. Adesso nel primo caso non abbiamo visto nulla perché non c'erano spazi esagerati e quindi la split mi ha dato la stessa stringa come risultato, ma qui che ci sono degli spazi, mi ha calcolato la stringa senza spazi, ma è stata data alla variabile nome che subito dopo dimenticherò perché nel ciclo for viene riassegnata all'elemento successivo e non è andata a modificare in nessun modo l'elemento della lista. Di nuovo, quando creiamo un alias, come ad esempio quando iteriamo su un contenitore, l'alias è al valore, non è alla variabile, quindi se modifico l'alias lo sto rompendo, sto modificando una cosa che non è più il dato di partenza. Se voglio modificare un elemento di una lista non c'è santo che passare dall'indice, non posso passare da un suo alias se voglio sostituire il valore che c'è in una lista. infatti quel BB che c'è viene immediatamente dimenticato quando, se vogliamo, è una variante della regola generale non giocare con l'indice dei cicli. Non cercare di modificarlo perché quasi sempre non funziona, come vorresti. Per oggi è tutto, grazie. Grazie. Grazie.